L'Italia è un paese di obesi. Lo sapevate che il 46% degli adulti e il 26% dei bambini tra i 3 e i 17 anni è obeso? Significa una somma di circa 25 milioni di persone. E sapete cosa è ancora più grave? Che i genitori, o meglio il 40% di essi, automaticamente sottostima la gravità della situazione. Ma sai cosa implica sottostimare tale gravità? Che tutto ciò che riguarda l'obesità e il sovrappeso porta o può portare a malattie come diabete di secondo tipo, malattie cardiache, addirittura articolari, muscolari, tumorali, chi più ne ha più ne metta. Questo oltre a gravare sulla sanità pubblica, quindi pagare di tasca nostra, e siamo sempre a lamentarci di ciò, dall'altra parte è anche indecoroso per quelli che nascono con delle patologie e non lo scelgono. E darebbero tutto e di più anche per avere solo il 50% in meno delle loro limitazioni. E invece poi c'è gente super fortunata che nasce in piena salute, come me e tantissimi altri, e poi con i propri comportamenti del cazzo fa di tutto per arrivare a una vita di malattia o potenziale tale. Sarà l'ora forse di alzare quel culo dalle sedie e iniziare a seguire un'alimentazione decente, invece che arrivare ad un sovrappeso che oltre sgradevole da un punto di vista estetico è senza dubbio una malattia?